Allora è arrivato il momento di fare il rendiconto sul trading in opzioni e come sapete se state seguendo questo tipo di percorso sono passato dal fare un percorso su trading in paper trading quindi simulato con la demo di Interactive Brokers, sono passato ad avere un conto reale da pochissimo e questo è il primo rendiconto che faccio dal punto trading su conto reale, quindi un rendiconto importante. In realtà non è passato un mese intero bensì tre settimane perché ho iniziato esattamente ad operare il 20 maggio quindi tre settimane di operatività però volevo far vedere quello che è successo anche perché questa settimana è stata molto molto interessante andrò a fare questi aggiornamenti bene o male se riesco settimanalmente altrimenti due volte al mese o comunque rendiconto mensile su questo tipo di conto. Faccio vedere quello che è un mio percorso personale, questo tipo di percorso non vuole essere un suggerimento per un qualche tipo di percorso che possa influenzare poi il vostro operato ma faccio vedere come sto ragionando io e come sto crescendo io con questo percorso perché ovviamente quando poi si si mette in gioco con un conto reale quindi con dei soldi reali cambia tutto, cambia l'aspetto psicologico, cambia il tipo di approccio, come si pianifica e come si reagisce a termine di eventi. Inizio con questa schermata che è quella di Facebook perché questa settimana questo è stato diciamo l'asset che mi ha creato un pochino più di preoccupazioni che poi invece è andato a finire con lieto fine possiamo anche intuirlo da questo grafico qui. Però quello che vi voglio far vedere siccome Interactive Brokers come TWS la Trader Workstation è al momento in manutenzione essendo chiuso il mercato approfitto di fare manutenzione il sabato mattina vi faccio vedere rendiconto direttamente dall'account quindi dall'account di Interactive Brokers c'è la voce rendiconto se avete un account anche sulla demo c'è potete vedere tutti i vostri operati selezionate anche un intervallo quindi di un periodo per vedere il vostro rendiconto e andate a vedere effettivamente quello che è successo. Io ho selezionato il periodo corrente quindi da quando ho iniziato dal 20 maggio al 7 giugno volevo iniziare direttamente all'inizio maggio se vi ricordate ma ci sono state delle pratiche burocratiche per effettivamente attivare l'account avere poi il deposito insomma ci sono tutte quelle un pochino di perdita di tempo da quel punto di vista adesso è attivo e sto operando però appunto sono tre settimane. Vi faccio vedere appunto questo che è il conto reale che è il mio conto reale sull'attività non penso che tanti altri facciano vedere questa cosa qui e come vi ripeto non lo faccio vedere perché chissà che voglio far vedere appunto i risultati perché così ci rendiamo conto del percorso che è veramente reale. Dovete prenderlo come ispirazione solo dal punto di vista di apprendimento didattico e modo di ragionare non tanto nell'operazione che io faccio perché io sto imparando ovviamente studio tutti i giorni ormai diciamo che arrivati a giugno è quasi un anno che sto studiando il mercato di opzioni però ovviamente un anno è poco non posso riferirmi a un esperto soltanto che mi sto mettendo alla prova io stesso. Quindi non è il caso di copiare come faccio io sto crescendo nel mio ragionamento però in ogni caso vi faccio vedere dei risultati che sono concreti al differenza magari di tante altre persone che parlano 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 vendono fanno corsi e quello che è e non fanno mai vedere quello che è il rendiconto reale del loro conto. Allora vediamo un po' innanzitutto vi faccio vedere dopo il deposito iniziale la situazione al momento è dopo 20.000 adesso mi trovo a 20.458 euro quindi in tre settimane ho fatto il circa c'è il calcolo automatico tasso di rendimento ponderato per il tempo circa il 2,29% in tre settimane che secondo me è un ottimo personalmente un ottimo risultato. Ovviamente vi faccio vedere questo è il resoconto quindi il resoconto di liquidità abbiamo 20.458 euro ma più che altro voglio farvi vedere il dettaglio eseguiti che è la cosa più interessante anche perché andremo a analizzare non tanto magari gli eseguiti che ho fatto nelle settimane precedenti che in realtà sono stati eseguiti molto molto semplici. Ho venduto come sapete vendo delle put con una strategia che è My Trading Way che inizia appunto con la vendita di put scoperta e poi ha una serie di loop per gestire la posizione e le altre settimane sono andate molto lisce diciamo che mi sono fermato al primo loop quello della vendita della put. Se non sapete di cosa sto parlando ho fatto tutta una serie di video per spiegare questo discorso questo video stesso è incluso in una playlist chiamata trading in opzioni e la trovate appunto direttamente questo video lo trovate in quella playlist quindi iniziando dall'inizio cioè proprio dall'abc dall'aspetto psicologico alla teoria alla pratica alla demo fino ad arrivare a questo punto ho spiegato tutto che cos'è un'opzione che cos'è una put eccetera. Quindi più che altro interessante è stata l'operatività di questa settimana quindi di quelle opzioni che vedete scadere al 7 giugno eccole qua quindi Facebook e Tesla. Praticamente andiamo a vedere un attimo vi spiego quello che è successo a inizio settimana l'apertura della borsa come avete visto del Nasdaq era in calo è una situazione che a me particolarmente piace in questo tipo di operità di vendita di opzioni perché fa alzare il prezzo del premio. Quindi se noi ci andiamo a porre uno strike out of the money con una certa sicurezza andiamo ad incassare un bel premio anche se ovviamente il rischio è maggiore proprio perché il mercato ci viene incontro. Bisogna quindi essere bravi a tenere la distanza di sicurezza e questa è tutta la difficoltà di questo gioco qui ovviamente però ci sono delle operazioni che si possono fare il runtime per sistemare la situazione e quello che appunto è spiegato nella strategia di Emanuele Bonanni quella di My Trading Way. All'apertura quindi c'è stato il calo il premio è stato di una vendita abbastanza consistente io ho venduto il premio con uno strike una una diciamo uno stock di azioni quindi 100 una put ho venduta a 160 dollari e un'altra a 155 quindi ancora più basso in questo grafico adesso non serve che faccio vedere a 155 con una percentuale di successo vicina al 98 per cento di successo quindi come operazione già dalla piattaforma mi diceva questo. Ovviamente però la giornata di lunedì è stata molto spaventosa perché in un solo giorno guardate che candela rossa non succedeva veramente da tanto tempo qua più che parlare di un mercato azionario sembra quasi vedere un mercato delle cripto come tratto solitamente. Neanche bitcoin alle volte perde quello che ha perso facebook che ha superato in un'ora mi sembra perso più del 7% ma in generale nella giornata un 12% o 13% cioè veramente numeri da cryptocurrency più che da mercato azionario. In ogni caso si è avvicinato molto pericolosamente con una leggera ripresa nella giornata stessa io qui vi sto facendo vedere l'orario voglio farvi vedere adesso il daily ecco qui e poi c'è stata la ripresa appunto nella finale quindi la candela poi è tornata a essere abbastanza positiva nella finale della giornata. Faceva ben sperare anche perché l'RSI era andato in ipervenduto ma di tanto quella giornata lì. Adesso che cosa bisogna fare bisogna decidere se mantenere il sangue freddo mantenersi in una determinata posizione e vedere quello che succede al massimo rischiare appunto di essere assegnati perché cosa succede? Io con la mia liquidità sarei andato a coprire l'assegnazione su questo asset perché l'asset a 160 dollari mi andrebbe a coprire anche se fosse paritario 1 a 1 in realtà c'è un pochino di gioco di margine ma avrei coperto 16.000 dollari quindi con 20.000 euro io avrei coperto completamente l'asset e avrei acquistato e sarei entrato su facebook ad un prezzo secondo me vantaggioso. Perché 160? Perché ho messo lo strike a 160? Perché se andate a vedere guardate che supporto è stato per tanto tempo 160 è un valore importante per quanto riguarda l'asset facebook. Poi ovviamente però questa candela ovviamente mi ha preoccupato anche a me. Allo stesso tempo avevo piazzato la vendita della putta anche su Tesla che ultimamente anche se hanno deciso di alzare il margine proprio ultimamente è molto interessante. Adesso non guardate questi strike che sono vecchi il mio strike era a 160 quindi molto molto più in basso di questi livelli qui. E diciamo che Tesla mi si è portato subito in un valore diciamo anche se la giornata poi era negativa subito in un valore molto positivo addirittura chiuso a 200. Infatti io non sono arrivato alla scadenza dell'opzione per quanto riguarda Tesla ma ho deciso di vendere cioè scusate di ricomprare la putt prima della scadenza. Perché? E questo ve lo faccio vedere direttamente dagli eseguiti. Guardate qui ho venduto una putt a Tesla scadenza al 7 giugno con strike a 160 e ho incassato 73 dollari perché è 0,73%. Quando un giorno prima il 6 la putt in acquisto mi costava 2 dollari ho deciso di chiudere la posizione. Si era alzato talmente tanto il valore dell'azione del sottostante che ero così tanto out of the money col mio strike che ho deciso di incassare e chiudere la posizione avendo un incasso netto di 71 dollari meno le commissioni. Però a liberare tutto il mio margine cosicché avevo gli ultimi due giorni tranquilli per Facebook con un margine puro, completo, totale. In caso anche Facebook avesse fatto degli scherzetti non avrei sofferto né l'assegnazione. Questo è come sto ragionando io. Però devo dirvi che ovviamente durante la settimana, tornando un attimo a Facebook, quando il prezzo si è avvicinato vertiginosamente ovviamente sono dovuto stare un pochino più appresso rispetto alle operazioni che ho fatto in settimana precedente in cui ho visto ogni tanto controllavo da telefono com'era l'andamento ma non ho fatto grandi operazioni questa settimana sono dovuto stare un pochino più presso al mercato perché in caso appunto si fosse avvicinato in modo pericoloso io non avessi potuto liberare il margine da Tesla diciamo avrei dovuto fare magari altre operazioni decidere magari di allungare quella che era la scadenza della mia opzione magari abbassando lo strike insomma ragionare un po' in questi contesti per salvaguardarmi e non rischiare un'assegnazione vicina magari con un margine che mi occupava troppo e magari rischiare un'eventuale liquidazione futura. In ogni caso ho un margine ancora molto molto tranquillo eh o comunque sia tra l'altro sto scrivendo tutto un trading journal che vi consiglio di fare perché è la cosa migliore tenete tutto sott'occhio e vi dico che il mio margine occupato era di 5.000 euro su 20.000 a quando ho completato le operazioni quindi ho comunque 15.000 euro liberi da poter gestire come liquidità e tutta la gestione era molto ancora molto tranquilla con con uno strike secondo me su un supporto molto forte questo è tutto il tipo di ragionamenti che ho fatto in ogni caso le operazioni cosa andate bene tutte e due perché Tesla l'ho chiuso in anticipo 71 dollari netti, netti, lordi perché poi ci sono le commissioni guadagnate chiusi in anticipo in soli 4 giorni e poi la chiusura su Facebook di entrambe quella a 155 diciamo sono stati quasi soldi regalati quella a 160 un pochino più sudati anche un pochino più preoccupati questa settimana qui e penso capiterà ma in ogni caso non sono stato assegnato la chiusura è stata poi molto più alta quindi 13 dollari perché poi il mercato è andato a riprendersi anche perché nella giornata seguente prima di decidere mi sono andato a leggere tutte quelle che erano le analisi degli analisti perché ne potete trovare a bizzeffe anche qui su TradingView trovate tutta una serie di analisi ma Interactive Brokers ci aggiorna con tutte le analisi degli analisti e il loro già il martedì quindi il giorno dopo dopo la grande vendita avevano la maggior parte degli analisti non consigliava una vendita delle azioni Facebook ma la maggior parte un acquisto e infatti avevano visto bene perché poi il prezzo si è andato a rialzare leggendo quello ho deciso ancora ancora di più di mantenere la mia posizione di mantenere su quella che è stata la mia decisione rischiando al massimo un'assegnazione su un asset che mi piace e sono rimasto fermo sono stato premiato perché poi ho chiuso tutte le operazioni in modo positivo e come vi facevo vedere prima adesso in tre settimane quello che è il guadagno è circa 470 euro meno le commissioni quindi diciamo operatività che mi soddisfa molto perché è superiore al 2% cosa che io come vi avevo spiegato nel mio piano di accumulo il mio trading plan che mi ero studiato il mio obiettivo minimo è il 2% mensile quindi lo 0.5% rispetto al mio budget a settimana quindi 2,19 quello che era circa in tre settimane per me è un ottimo risultato potrei permettermi di fare adesso nell'ultima settimana operatività anche uno 0% e sono comunque andato a target questo è un po' come io sto ragionando e come penso sia corretto fare voglio darvi questo esempio qui come pianificare un trading plan avere una pianificazione a lunga durata mantenere cercare una strategia che vi possa piacere su un asset un tipo di operatività che vi interessa e mantenere quel tipo di operatività poi ovviamente ci saranno operazioni che vanno male e operazioni che vanno bene l'importante è che la maggior parte delle operazioni vi porti poi ad avere profitto e ci sia una gestione del rischio che sia consona con quanto voi potete e volete rischiare questo è un po' quello che ho imparato in quest'anno diciamo di studio, di esercitazioni e ovviamente non si smette mai di imparare so di essere ancora altamente inesperto è un anno che opero su mercati finanziari un pochino di più sul mercato crypto che è troppo diverso rispetto a questo e un anno che ho imparato che cosa sono le opzioni che è un asset, che è uno strumento finanziario molto complesso ma allo stesso tempo molto molto attraente secondo me questo è il resoconto di queste tre settimane di operatività continuerò a fare resoconti sul mio conto reale quindi non vi prendo in giro parlandovi di numeri e cose, risultati incredibili con strategie complicatissime, 2000 da studiare chissà quanto tempo qui non è questione di studiare chissà quanto lo studio è importantissimo ma va consolidato, va metabolizzato nel tempo quindi l'importante è avere un modo di operare strutturarlo su un piano e poi essere costanti non andare a cercare la cosa più complicata possibile oppure tante cose complicate magari ci vogliono 4 mesi per studiare tutte quelle strategie che non applicherete mai l'importante è essere come se fosse un lavoro questo è un lavoro se lo fate in questo modo qui ad esempio in settimane come queste dove io sono dovuto stare appresso a quello che succedeva bisogna starci, il mercato certo non aspetta noi sono io che dovevo osservare quello che succedeva le finestre temporali sono limitate perché qui in Italia abbiamo comunque un'apertura alle 15.30 con chiusura alle 22.30 quindi bene o male la fascia da lunedì al venerdì quindi la fascia è limitata non è come il settore cripto dove sono 24 su 24 bene questi sono tutti i ragionamenti che mi passano per la testa spero questi ragionamenti possano essere utili anche a voi vi rilascio questo video da guardare e magari analizzare e criticare soprattutto mi rivolgo ai più esperti quelli che operano da più tempo in questo settore ditemi cosa nel ragionamento magari ancora devo migliorare e su come posso appunto migliorare, mi viene in inglese, to improve il mio modus operandi vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo aggiornamento per quanto riguarda le opzioni per tutto il resto avete visto anche di giovedì faccio un vlog legato al trading con le nozioni generali su quello che è la easy tecnica, la easy fondamentale, la psicologia e tutte quelle nozioni che mi tornano utili anche in questo settore dove invece opero in modo concreto e in modo reale oltre a tutto quello che c'è nel mondo cripto e anche lì queste nozioni mi stanno tornando abbastanza utili grazie a tutti ci vediamo al prossimo, ciao